Dire di fare un bel compo in Arabia Saudita... no... Un bel compo in Spagna... Non posso manco farlo e... No, posso farlo, non posso... Posso farlo in Francia in compo? Lo faccio? Lo faccio? Che tipo? Fascista Fallo comunista Dove? Dove? Vabbè Francia Perché guarda quanto c'hanno di comunismo Quale parte più che alto dovevi fare? Boh, una parte... Dimmi le regioni che ti fa fa Tutte, tutte, tutte le posso fare Allora... la migliore sarebbe Champagne Allora... Champagne... Del Caracchio Stavo? Oppure la Provenza Provenza, basta, lo Scotch... Ah... Che dovevi fare però? Nel senso, quanto devo... Non lo dovevi dare? Fucili, me so Undici mila, sei cento... Ah... Ancora... Cazzo, mi hanno inviati già tutti quanti Ma come? Come? Si è mandato i fucili di morda Ma sai... ma meno male... Come ho fatto? Diciamo, è un momento tattico di... Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti Fermi, fermi... La Nettonia è stata mangiata... Dall'Unione Sovietica Ah... Eh cazzo... È stata proprio mangiata... Aveva fatto... Ha fatto il boccone... Aveva aperto la bocca... Ha fatto lì... Ma... È stata presa... È stata distrutta... È stata mangiata... Adesso Danzica... Per garantire... La... Sopravvivenza... Della Pomonia... Eh? Che dici, Pomonia? Accetti? Cazzo, l'ho accettato? Meglia! Buono, buono... Se vuoi far... Cambiare truppe... Cioè... Boh... Credo di sì... Mmm... Quello è not the wood... A me l'ho declinato, vabbè... Ehm... Ungheria... Che vuoi far? Che ca... Beh... 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 Ma... Hai visto? Hai visto? Se ne sono andati tutti... Come... Perché una per... Eeeh... Perché una per... Eeeh... Eeeh... La cosa ha accettato... Eh beh... Devo togire le divisioni... Oh oh... 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 Ehi ehi ehi... Eh... Ci provo... Ci proviamo? E' entrata negli alleati... Eh vabbè... Non ho fatto tutto il tempo in chitarla nella fazione... Non fa niente... Inviamo comunque delle divisioni... Delle divisioni dai... Vabbè... Io ho provato a difendere... No... Non è ancora sconfitta... C'è ancora una isola di Holland... Anche se l'intorio è capitato... Però... Demand est in Poland... Chi? Eh... La Russia... Ok... 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 No... No... Dichiariamo guerra agli alleati... E all'asse... No... No... Non c'è più un'asse... Il punto è che... Dipendiamo... Ma dobbiamo chiudegli... Sì... Dobbiamo... Ricciare... Lontani la Polonia... Facciamo un sacco la Polonia... Ehi... E rifermiamo... Che dico? Esatto... Quella dobbiamo va... In plena non... Guarda che... Non è riuscita... Pensava che era più forte... Però c'ho il King Tiger... Quindi... Penso che... Prova a chiamare... 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 Riprova... E nessuno mi sta colpendo... Oddio... Oh... Ottima mira... Oh... Oh... Madonna... Oh... Sono un genio del male... Poi gli dichiaro guerra... Vai vai... A chi dichiaro? Aspetta... Fermi... A quella comune... Domination of Canada... Che è diventata fascista... Ah no... Ok... Ho perso... 150.000 uomini... Vabbè... Ne ho uccisi però... 500.000... Buona te... Io ne ho persi 61.000... Eh... Sul convine rumeno... Questo va a spawnare... Tra gli attacchi suicidi loro... E gli attacchi miei... Verdi te... Sono pesanti... I romeni suicida... No no... Sul fronte rumeno... Noi siamo coi rumeni... Ah... Perfetto... Dobbiamo rubare... I romeni... I romeni... C'hanno un po' più di... Di cosa... Non si suiciderebbero mai... Di onore... Eh... Qualcun altro? Io... Vabbè... Abbandono l'aero adesso... Ah... Prima che mi inserisero... Ero a sparare... A great time... Bye... A beautiful time... Eh... Ce ne avevo quattro in coda... VBF 109... Non sto ca... Il secondo reggimento Piemonte... Che ancora campa... Schermo... Bariga... Niente? No... No... Eh... Non ci riusciamo qua... Siamo per... E... Tutti altro... Come hanno fatto i... 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 Ne so quanto di... Si... Dopo cazzo... Sono questi ultimi amicizioni di amicizio... Sto iniziendo ad avere... Il... Un... 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 Prova ad avanza... Forse che scappende mica eh... Boom... Comunque... Non si è fallita per un'ampenata... Ha fatto boom... c'ho provato si è finita una tua volta ma che panne e che panne faccio un compo in russia che dici non lo so se c'hai le risorse no lo faccio in denimark ma sto in belastro un canico quando è che si forma non si forma che schifo apri l'instagram e vedi la merda i polacchi potrebbero conquistare minsk oh shit devo sparare bella volare c'è il 17% di guerra io sto già solo io sto al 30 la romania c'ha 20 tu c'è 17 però la siamo messi bene che schifo io 17 no perchè il front è più piccolo io sto a combattere su tutto il front su tutti i front ma tu chi è che sta a fare ma siamo a vincerlo di molto non è che mi potessi dare in armenia che è benaricca di petrolio no non è in armenia quella è la giorgia no nessuno ok che cazzo sto a vedere no non posso ah quanto è bene fabbrica scendi giù non mi rompe il cazzo figa mmm cristo vai bombe a manetta rimano i deficit di tutto merda boom boom 3 4 6 obiettivi distrutti pum 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 io avrei bisogno di un po' di cromo qualche barca ci facciamo io ce l'ho tantissimo ma che è minecraft esatto che è minecraft perché c'è il cromo giustamente vabbè no quasi potrebbe potrebbe eh no io dico sincere comunque ho fatto un best sacco mi traiere conto su di te capito? dove? ah visto dobbiamo sempre riuscire a prendere riga però ah boh io io giro io la faccio ta 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 perché uno c'è nei rifornimenti marittimi secondo me per cui è un'unica è un'unica spiegazione ma è un'unica spiegazione ma è un'unica spiegazione ma è un'unica spiegazione prima ho fatto una kill perché mi è andata a sbattere addosso ma ha colpito l'ala ma temo che prendiamo un'unica chiudiamo è esploso e io non mi sono fatto assolutamente nessun danse si certo c'erano queste cose non ho capito eh stavo con l'h111 col bombardiere poi ce l'ho fatta a chiamarlo troppo santi ma no andaci che è successo? non posso conquistare niente eh vabbè è andata andata via per sempre oh ma riga perché non cade? oh ci hanno fatto un sacco cosa? cazzo oddio addio c'è sei divisioni ci ho chiusa in quel cazzo di slide sto per prendere riga in teoria merda no mi è partito un elettone sto per prendere questi pezzi ok riga è nostra vediamo ormai